ok piccolo consiglio per chi magari vuole fare qualche acquisto già con le maglie finisher o comprare qualche gadget c'è questo negozio che ogni anno passo comunque a vedere che si chiama new york roadrunner run center che è un negozio new balance ma che vende già i giorni prima il gadget maratona non è grossissimo c'è qualcosina non è come la l'espo della maratona ma se uno vuole comparsi la maglietta di ricordo è un posto carino inoltre c'è l'esposizione di tutte le medaglie storiche della maratona dalla prima edizione fino a quest'anno quindi uno può già andare a vedere la medaglia dovrebbe già esserci esposta quella della stagione in corsa quindi siamo molto vicini comunque a central park e ci si passa in questa zona quindi io assolutamente un giretto magari già il giovedì pomeriggio passo proprio per cercare di magari prendermi già la maglietta finisher anche se poi magari porta sfiga perché l'anno scorso l'hanno finita e non l'ho più trovate quindi se qualcuno vuole siamo a 20 minuti dall'albergo non siamo così distanti dalla dalla metropolitana anzi siamo comodissimi e siamo vicinissima con un buon circolo ok quindi new york roadrunner run center